Inspiegabile, cioè non è che c'è una motivazione, no? Oggi sono felice e contenti, stamattina, e pomeriggio sono tristi, depressi e incazzati. E cioè, ho capito che quello lì magari ci avrà un problema, ma devo sobbarcarmelo io, sto problema? Cioè, come fai ad avere una relazione con una persona che oggi è allegra, felice, domani è incazzata e triste? Ci sono anche i tripolari, i quadripolari, i pentapolari, cioè persone che cambiano 50 volte, no? Umore nell'arco della giornata. E bisogna tenere presente che è un campanello d'allarme anche questo, no? Se ha a che fare con una persona che ha questo tipo di caratteristiche, beh, non è che devi stare, sì, esatto, trifase. Sistema trifase, sinusoidale, sinusoidale, trifase, alternata, sinusoidale, trifase.